Sì che c'è, è legato ad un eccessivo utilizzo delle procedure in deroga, che significa che moltissimi dei casi che oggi sono attenzionati dalla magistratura riguardano appalti che hanno avuto la possibilità di derogare rispetto all'attuale regolamentazione. L'attuale regolamentazione è molto complessa, lo stesso Gianpaolino l'ha definita troppo faraginosa, il codice degli appalti è un articolato molto lungo, è il prodotto di un sovrapporsi di normative, ma tutto questo oggi è obbligo solo per le imprese che stanno nelle procedure ordinarie, la maggior parte delle imprese, tant'è che il Presidente ha sottolineato che delle grandi opere poi hanno soffruito solo un numero di imprese che sta sotto 20. Allora quello che noi abbiamo più volte sottolineato anche nelle nostre polemiche con l'attuale governo è perché alcune grandi imprese per grandi opere hanno potuto soffruire delle deroghe, cioè del bypass su tutta la normativa degli appalti, quando la maggior parte invece delle piccole imprese, dei cittadini che hanno bisogno di costruire, di fare, di operare nel mondo delle infrastrutture, deve attenersi a questa normativa. L'appello nostro che abbiamo colto anche molto favorevolmente nelle parole di Gianpaolino è semplifichiamo tutti insieme la normativa, ma a quella normativa devono rispondere tutte le imprese, le grandi e le piccole, tutti i cittadini. Non ci può essere una riserva indiana solo per le grandi imprese che vanno in deroga a tutto, vedi G8 della Maddalena è l'esempio più eclatante, ma ve ne sono molti altri e rendiamo questa normativa e la trasparenza e la possibilità di partecipare alle gare di tutte le imprese e con un'omogeneità, un'uniformità che renderà sicuramente giustizia e legalità ad un apparato, quello che fa riferimento alle infrastrutture che è molto ampio e che vede molti operatori, si parla di 2 milioni di dipendenti nel complesso. È un sistema che però ha bisogno anche di un altro fattore, cioè la pubblica amministrazione deve essere messa in condizione di controllare e di verificare nell'arco degli appalti, durante la vita di un appalto, in ogni fase. E noi stiamo anche, come dire, impoverendo la pubblica amministrazione, come dire, questo governo lo fa anche con vemenza, definendola, come dire, una massa di fannulloni, ma il nostro invece vero problema è riqualificarle e darle le responsabilità che gli competono, soprattutto in una materia così delicata.